Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! C'è nessuno? C'è nessuno? Oh, finalmente il telefono! Homer, la monterai questa roba prima o poi? Certo, appena finisco di guardare questo DVD. Ah, che caspiterina, guardi, di tanto importante! Combattimenti di mascotti universitari. L'edizione speciale. Le mascotti più pesanti perdono sempre, a meno che l'altro sia senza braccia. Vedi? Il pino di Stanford non può competere con l'onda verde di Tulane. C'è un personale interno, Marge, hai visto? Maggie! Ora basta, papino, monterai il tutto oggi stesso. Marge, non lo trovi un possessista che tocchi a me? Tutta la falegnameria? Oppure puoi portare Barta al centro commerciale per far... Scusa, è acceso il trappolo! Non riesco a sentire un tubo! Ho finito! Sono intrappolato Vieni bella, vieni qui Chi è una brava chiave a brugola? Tu sei una brava chiave a brugola Vieni qui Dai Non è la stessa chiave che ho ingoiato Ehi Barbie, come butta? Bene, tu come stai? Mi serve aiuto, puoi venire da me? Oh, usa l'app, Chug Monkey Gli altri fanno le tue faccende così sei libero di seguire i tuoi sogni Ora il mio sogno è birra e carta angelica Signor Gamble, solo perché sono una persona a modo Questa è l'ultima birra che le consegno Allora userò il ghiurutto Smettila di mangiarmi, non sono morto Ciao ormai, al tuo soccorso Oh, la ringrazio Credo che questo sia l'inizio di una dipendenza patologica Ciao ormai, al tuo soccorso Ciao ormai, al tuo soccorso Ciao ormai, al tuo soccorso